Ciao, bentornati su My Food Old Jersey. Oggi vedremo insieme la maglia da trasferta dei Celtic Glasgow per la stagione 22-23 in edizione FUN. Mi raccomando, continuate a guardare il video fino alla fine per vedere la vestibilità e nel frattempo mettete un like al video. A dopo! La nuova maglia da trasferta del Celtic trae ispirazione da un classico degli anni 90. La maglia da calcio Away Adidas Celtic 2022-23 è prevalentemente nera con strisce verdi che hanno ciascuna un sottile bordo bianco. Verdi anche le 3 stripes poste sulle spalle, mentre i loghi Adidas e Daphabet sono bianchi con contorno nero. L'aspetto generale della maglia sembra essere ispirato alla maglia da trasferta del 1992-93 realizzata da Umbro. Lo stema del club è circondato da uno scudo, anch'esso un richiamo degli anni 90. Gli inserti in mesh sotto le braccia e la tecnologia antiumidità are all ready. Assicurano il massimo comfort ai tifosi. Opa! Stupenda! Questa maglia nella mia classifica va in cima. Prende 5 stelle. Peraltro ha questo costo veramente imbattibile. La maglia è fatta molto bene. I colori sono spendi, brillanti. Questo contrasto nero, verde e bianco veramente, secondo me, imperdibile. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e peraltro un link per avere un coupon da 3 dollari da usare sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio la parte in cui vedrete la vestibilità. Nel frattempo vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN!